Buongiorno a tutti, Giuseppe Arditi dall'Aresto Più Lombardia, la più bella azienda che ci sia, oggi lascio parlare gli altri, sentite cosa dicono di noi, è buona visione, ciao a presto! Buongiorno, sono Aldo Castelnuovo, sono Presidente della Camera di Comercio dell'Italo-Uruguayana in Italia e delle Camere di Comercio del Mercosur in Italia, sono qua a visitare un amico, faccio la consulenza di internazionalizzazione e le aziende che rappresentano Arresto Più sono sempre più che interessanti.